La prima partita con il costo è andata, siamo riusciti a vincere e questo era importante, abbiamo sicuramente corrato tantissime zero nel gioco, il primo tempo è stato molto meglio nel secondo tempo, siamo un po' calati specialmente nel gioco in difesa, eravamo importanti, non riuscivamo a correre tanto nemmeno in contropiede in modo organizzato. Hanno giocato cinque giocatori che non avevano finora mai giocato, Stabilin aveva giocato ma non era mai partito, non aveva mai il ruolo di titolare, anche se ha fatto qualche errore comunque, sono soddisfatto della sua prestazione, ha comunque molte riserve, Venturi ha fatto una rischietta partita, Sonner pure, quindi sono ragazzi con i quali bisogna ancora lavorare e ai quali bisogna dare ancora fiducia. Grazie